Flavia, benvenuta al Festival del Viaggiatore, siamo davvero contenti di averti con noi. Siamo in uno dei posti penso più suggestivi e più belli di Asolo. Ci puoi parlare di questa villa, di dove siamo? Certo, allora dopo Cortina d'Ampezzo, perché il mio cuore mi dispiace, è Cortina d'Ampezzo, io credo veramente che viene Asolo. Avevo proprio delle belle amicizie e il mio amore per Asolo c'è sempre stato comunque. Ed io ho acquistato questa villa incredibile, perfetta, dove io che sono maniacale del particolare, non trovo mezzo difetto. Era un albergo e io qui volevo creare il dopo Hotel Ancora, col mio chef, col mio met, col mio personale. Avrei fatto il più bello albergo del Veneto, impressionante come anche la posizione degli alberi, è quello che mi ha proprio impressionato, è una posizione aritmetica. Tutta questa parallela di qua, parallela di là, ha creato un disegno partendo dal laghetto giù in fondo fino a qui. È impressionante. C'è poesia in ogni angolo, perciò non mi posso lamentare, ma non è Cortina. Eh, vabbè, allora ritorniamo a Cortina a questo punto, dai. L'Hotel Ancora è la mia pelle. Ho messo tutta me stessa, ma in una maniera molto naturale, niente di tragico. Trent'anni senza uscire, perché ho l'amore del mio personale, l'amore del mio chef per vent'anni, l'amore del mio met per vent'anni, l'amore delle mie cameriere per quindici anni, e quindi come io mi muovevo ero attorniata di amore. Ma la cosa più importante, i miei clienti, tutta l'Italia, io dico tutta, tutti, anche i più ricchi d'Italia, quelli che si sono fatti nel dopoguerra, che sono cresciuti, non c'è nessuno, non ce n'è uno che abbia saltato l'ancora. Ma si può essere davvero grandi albergatori solo per far soldi? No, ma i soldi non devono centrare, io non ho mai fatto nessun calcolo. Era proprio un vivere bene insieme e si sentiva nell'aria. Quindi mi mancherà moltissimo, mi manca, ma non devo lamentarmi, perché, signori, guardate che cosa c'è di bello anche qui. Devo cominciare a pensare che il mondo va avanti. A proposito, io vengo da Padova, per cui ho una curiosità, no? So che nel tuo albergo c'erano anche dei pezzi molto importanti che venivano, per esempio, dall'Hotel dell'Orologio. Allora, l'Hotel dell'Orologio aveva delle cose stupende, bellissime, che la gente non ha capito, però io, sì, tavoli sono belli, le sedie sono belle, però io ho creato tutti gli archi. Cioè non è che tu puoi soltanto avere un'attrezzatura che funziona a un bel oggetto, tu devi creargli tutto intorno. Io ho i quadri delle Olimpiadi del 1956. Quando si parlerà delle nuove Olimpiadi, noi abbiamo anche le Olimpiadi del 1956 a Rotelancora, che è molto simpatico. Intanto cominciamo a parlare della terrazza viennese. Siccome io ho sempre amato Vienna, andavo al Sacker di Vienna e ho il cavallo lipizzano e sono stato a vedermi tutto quello che sono i cavalli lipizzani a Vienna, ho creato io, senza architetti, senza l'aiuto di nessuno, ho creato la terrazza viennese. Ma avere una lettera dell'imperatore d'Austria che viene, che trova Franz Josef, Carl, la Sissi, le roselline di Maria Teresa d'Austria, la gran nonna, e il mio cavallo lipizzano, lui si è commosso e mi ha scritto una lettera bellissima che io ho incorniciato e che adesso non so più se ci sarà o non ci sarà. Ma per noi Franz Josef, l'imperatore d'Austria, per noi di Cortina, mamma mia, cosa non abbiamo fatto per questo imperatore Otto d'Asburgo? È stata una cosa bellissima e abbiamo fatto un monumento a suo papà perché il papà ha salvato durante la guerra, non ha rubato le campane di Cortina, le ha salvate. Quindi una volta all'anno le campane suonano ricordando Carl. Queste sono cose che ti entrano nel cuore e che non fanno parte di te. Non è una questione di soldi, non soldi. È l'amore per il tuo paese che si riflette su tutto e su tutti noi. Senti, il nostro festival parla di viaggio come metafora della vita. Se tu dovessi fare un attimo un resoconto della tua vita, quale sfida ancora ti piacerebbe accettare? La sfida che volevo fare con molta serietà è di fare una fondazione a Iesolo dove ho già creato, c'è una scuderia di Von Grassetto. Volevo fare una fondazione in favore degli animali perché lì ci sono dei cavalli, ci sono dei cani, ci sono dei gatti. Insomma, ne abbiamo già parlato col sindaco, ma bisogna vedere poi se veramente la gente in un Iesolo, con un palazzo in marmo, in un posto di lusso, come sono morta, se è vero che la fondazione sta in piedi. La mia idea vera che mi ha spinto quando ho deciso di vendere l'ancora è stata molto per creare questa fondazione in favore degli animali perché io mi ero comprata dei cavalli da trotto in un momento di follia, ho guidato in pista i cavalli da trotto, hai capito? Purtroppo sono fatta di tanti hobby e ho creato anche questo. vedremo quello che riuscirò, non l'ho escluso, rientra ancora in un programma di vita. Quanto importante è la passione nella vita? Averne una di grande? Bisogna avere la passione tutti i giorni di qualche cosa che ti piaccia e da creare. Secondo me la vita è fatta di creazione, è solo creazione. Se tu crei, allora gioisci di quello che hai creato e ti senti la tua personalità soddisfatta. Se vivi perché hai soldi, perché sei servita, perché hai la cameriera, perché mangi bene, questa non è vita. Ieri mi ha scritto il mio amico, siamo venuti e abbiamo incontrato la fabbrica della bellezza. Mi ha scritto. Perché è vero, perché bisogna sempre creare, non fermarsi, ma per te, non per gli altri. Senti, visto che è il Festival del Viaggiatore, ci dai una tua idea di viaggio? Non sempre sai viaggiare e spostarsi. No, ma io scherzi. Io ho in questo momento un'amica molto importante, una stilista araba, che vuole addirittura mandarmi il biglietto per Abu Dhabi. Sono lì che mi pregano in ginocchio di andare a Abu Dhabi. Sono lì che mi pregano in ginocchio di farmi il vaccino cinese. Non ti dico altro. Mi ha insegnato come mi devo vestire, che devo mettermi una cosa di plastica, che devo mettermi i guanti, che devo qua. Mi vuole pagare anche il biglietto. Ecco, viaggiare. Ma viaggiare in Italia, perché come l'Italia non esiste. Ma dove c'è un posto come l'Italia? Cioè, anche Cortina e D'Ampezzo. Anche senza andare chissà che cosa. Il clima. Guarda il mio fisico, perché sono così? Iesolo qui, il primo sole è qui, l'ultimo sole è qui. Il clima è pieno di ossigeno. Cioè, dobbiamo apprezzare l'Italia, ogni angolo dell'Italia. Non c'è né solo asolo né solo Cortina. Tutta l'Italia, se tu cominci a girare, la trovi meravigliosa. Basta saper riconoscere quello che c'è. Ma l'Italia è tutta stupenda. Sì, è per questo. Noi, il nostro festival ha proprio nel cuore l'Italia. Partendo da asolo, ma apprezzando veramente quello che abbiamo. È giusto. Dunque sei dei nostri, Flavia. Va bene. Spero meglio questa casa, ti spiegherò meglio anche asolo. Perché asolo è secondo a Cortina, però asolo in Italia è meraviglioso. Chissà che riusciamo a venire in questa splendida villa, a fare uno dei nostri incontri. Sì, ma io te la metto a disposizione perché io amo asolo. Amo molto anche asolo ed è molto particolare anche il clima. Cioè, quando noi parliamo di un posto, non è soltanto una meravigliosa villa del Cinquecento. È anche il clima che funziona. Qui non è umido, è pieno di ossigeno. Asolo è pieno di ossigeno, è tutto verde. Bella gente, gente molto molto carina, molto gentile nei negozi, dappertutto. Un bellissimo ambiente. Io sono incantata del mondo proprio, dell'ambiente che ho incontrato qui. Incredibile. Anche meglio di noi montanari. Ecco, vedi. Voglio dire la verità. Allora, vedi, dalla montagna alla collina. Grazie, Flavia, di essere stata con noi. È stato un piacere avervi conosciuto, invece. Piacere mio, dai. Allora, vedi, dalla montagna alla collina.